Buonasera a tutti, stasera siamo qui in questa chiesa stupenda dell'undicesimo secolo che si trova a Rosciolo, una frazione di Magliana e stasera presenterò il repertorio su questo strumento barocco che si chiama arciliuto presenterò pezzi di massimi esponenti del tardo rinascimento poi passando tra barocco per finire nella tarda epoca del barocco nel 1700 i compositori saranno John Dolan, Kapsberger, Zamboni e Falcognieri grazie mille e buon ascolto